Buon anno a tutti. Che cosa desideriamo per questo 2021? Sicuramente il ritorno alla normalità, quindi la scomparsa di questo virus, con tutte le incertezze che ad oggi purtroppo ci sono. Dobbiamo impegnarci per continuare a contrastare questa emergenza, a sostenere chi in questo momento ha più bisogno, quindi questo è uno degli obiettivi che come amministrazione ci poniamo in primis, quindi sostenere il comparto sociale, il comparto delle famiglie, il comparto imprenditoriale. Già abbiamo messo in campo delle misure di sostegno per queste fasce di popolazione. L'opera più importante? Sicuramente cercare in questo anno non di terminare ma comunque mettere in cantiere il recupero, il restauro e il miglioramento sismico della nostra pinacoteca comunale. Come ho detto in un'altra situazione, quel luogo rappresenta un po' la nostra ripadanzone in piccolo, dentro c'è di tutto, c'è dalla storia, dalla cultura, dall'architettura, dall'incontro sociale, perché c'è quel famoso Salone delle Feste che è un punto di ritrovo convennistico, di incontro appunto anche sociale, quindi questo è l'obiettivo che mettiamo in primis in campo quest'anno oltre alle interventi importanti sulla viabilità ed altre opere pubbliche che sono in cantiere. Speriamo che tutto vada per il meglio e buon 2021. Grazie.